Due le persone morte, 13 feriti di cui 7 bambini. Questo è il bilancio dopo il crollo del ballatoio della vela celeste a Scampia, venuto ieri sera. Per quanto riguarda i minori, di età compresa tra i 2 e 10 anni ricoverati all'ospedale Santo Bono di Napoli, preoccupano le condizioni gravi di due bambine di 4 e 7 anni, ricoverate in rianimazione con prognosi riservata per lesioni multiple del cranio. Altre tre piccoli pazienti rispettivamente di 10, 2 e 9 anni hanno riportato lesioni ossa importanti e sono attualmente ricoverate in ortopedia. Le ultime due di 2 e 4 anni hanno riportato contusioni multiple con interessamento splenico, trauma cranico non commotivo e contusioni polmonari bilaterali. Ascoltiamo il primario del pronto soccorso, dottor Vincenzo Tipo, e il direttore medico di presidio, dottoressa Daniela Schiavone. Sono arrivati 7 bambini, di cui 2 sono ricoverati in interventi intensivi in condizioni molto critiche. La situazione è stabile sia per loro ma anche per gli altri bambini che non hanno delle lesioni così importanti come i primi due, ma che comunque alcuni di loro si sono stati sottoposti ad interventi chirurgici, soprattutto quelli che avevano fratture da ridurre. Gli altri bambini sono ancora in osservazione. Per fortuna per questi bambini che non sono in interventi intensivi non sono in pericolo di vita e quindi hanno sicuramente una prognosi migliore degli altri per i quali queste ore è ancora troppo presto per poter trarre delle conclusioni. Aspettiamo l'evoluzione naturalmente di quella che è la prognosi e ringrazio anche i colleghi del pronto soccorso, della neurochirurgia, della terapia intensiva e tutti i medici del Santo Bono che prontamente si sono prodigati per dare le cure del caso e fare il possibile per questa situazione. Due morti e 13 feriti, tra questi ultimi ci sono 7 bambini e il bilancio provvisorio fornito dalla Prefettura di Napoli sulle conseguenze del crollo di un ballatoio è venuto ieri notte a Scampia. I bambini coinvolti nel crollo hanno tra i due e gli otto anni per loro fratture, traumi e contusioni, una persona dimessa, considerate le ferite lievi. 800 le persone evacuate, sostanzialmente tutti i residenti della Villa Celeste di Scampia. Si stanno fornendo pasti acqua, sono almeno 4-5 le strutture che possono accogliere dalle 300 alle 400 persone, così il prefetto di Napoli, Michele Di Bari. Noi stiamo predisponendo tutte le strutture per un'accoglienza già da questa sera. Ovviamente noi abbiamo fatto anche una serie di, come dire, un coordinamento sulle tante attività che è opportuno, che in questi casi, soprattutto con questo sole, per creare meno disagio possibile alla popolazione evacuata. In particolar modo si stanno fornendo i pasti. Ho letto che qualcuno si è lamentato per l'acqua, ma l'acqua c'è. Sono state già individuate almeno 4-5 strutture che possono accogliere dalle 300 alle 400 persone. Il giorno dei funerali delle vittime per Napoli sarà proclamato il lutto cittadino. A dirlo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, durante una conferenza stampa indetta Palazzo San Giacomo. Il giorno in cui ci saranno i funerali richiederemo il lutto cittadino. Quindi adesso valutiamo il momento in cui, insomma, questo avverrà. Dobbiamo anche essere vicini alle tante persone che sono state coinvolte e che adesso si trovano senza casa. Dobbiamo dare loro una sistemazione, una prospettiva certa. Cordoglio, espresso anche dal governatore Vincenzo De Luca, che poi si è recato a Santo Bono e ha parlato con lo staff dell'ospedale dove sono ricoverati i bambini feriti nel crollo. Addolorata per quanto è accaduto ieri notte, in questo momento di dolore il mio cordoglio va alle famiglie delle vittime unitamente a un pensiero di vicinanza ai feriti e ai loro cari. Un ringraziamento ai vigili del fuoco, prontamente intervenuti a quanti stanno collaborando nelle operazioni di soccorso. Queste le prime parole del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post sui social. Basto incendio a Striano, l'ultimo comune della provincia di Napoli, prima del territorio di Salerno. Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco si sono recate nell'area di Viale Vecchie, lì dove c'è il rogo all'interno dell'industria dolciaria Ambrosio. Si tratta di una delle imprese più importanti nel settore, specializzata nella produzione di frutta candita, confetti artigianali, amarene, marmellate, cioccolato, aromi e numerosi altri prodotti per l'industria dolciaria. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Le fiamme sembrerebbero essere partite dal settore dei confetti. Per fortuna, tra i tanti dipendenti, nessuno è rimasto ferito. Il neo sindaco di Striano, Giulio Gerli, ha firmato un'ordinanza affinché ad Oras tutta la popolazione residente nel perimetro di due chilometri dall'opificio industriale provveda alla disattivazione degli impianti di areazione forzate e di condizionamento, alla chiusura degli infissi esterni degli immobili, al divieto del consumo e vendita di frutte e ortaggi raccolti in data successiva all'incendio nelle zone comprese entro il raggio di due chilometri, al divieto di attingere le risorse idriche e fine alimentari da vasche e pozzi non protetti dalla precipitazione aerea unitamente alle disposizioni del divieto di pascolo. Siamo sul posto, afferma il primo cittadino.